Sì, grazie Presidente, Commissaria. Io vorrei innanzitutto dire da quest'Aula alle donne polacche siamo con voi. Non siete sole, non siete sole in questa battaglia. Noi ci sentiamo parte di questa battaglia che ci riguarda perché abbiamo imparato che i governi che hanno un'idea labile dello Stato di diritto attaccano prima le donne. Prima le donne e i loro diritti cominciano da noi ma poi attaccano i diritti di tutti e di ciascuno. La libertà di espressione in una parola la democrazia che è un bene preziosissimo che dobbiamo difendere. Ma più pressante è il tentativo di riportare indietro le lancette dell'orologio della storia, più grande deve essere lo sforzo di non arretrare di un millimetro, di guardare avanti. Sapendo che non basta vincere una battaglia, sapendo che non basta ottenere che venga rispettato un diritto, occorre vigilare. E noi in quest'Aula lo facciamo e lo faremo sempre.